grazie a tutti per essere qui grazie ad accademia italiana per l'invito ringrazio idealmente alessandro colombo che conosco da da un po di anni marta con cui abbiamo definito gli aspetti tecnici di questa presentazione grazie a chi è venuto insomma anche da fuori prenotando un posto io sono matilde sereni attualmente lavoro in nell'ufficio comunicazione di autoline toscane questo vi vieta di farmi qualsiasi domanda sia legata al 17 al 10 perché non passa perché ieri cioè lo potete anche fare ma io spero di potermi avvalere della facoltà di non rispondere perché sono qui come mi ha anticipato marta per parlarvi di lungarno quindi per finta quante di voi conoscono lungarno già lo so grazie tanti quindi ok lungarno come spero sappiate è un mensile gratuito di arte e cultura a firenze come nasce lungarno io ho scelto di parlarvi in questo appuntamento appunto di tutto quello che c'è stato dietro la visione di di questa rivista anche per insomma collegarmi un po al fil rouge di questi appuntamenti tralascio gli aspetti tecnici ma naturalmente se sono di vostro interesse avanti con le domande insomma ho molto piacere a raccontarvi come è stato però di base ve lo eviterei ecco la parte più rognosa ve l'ho omessa quindi lungarno nasce esattamente da questo cioè da una visione da un bisogno e da un'esigenza per la precisione nasce da quattro esigenze da quattro bisogni e da quattro ricerche diverse da quattro era giovani leo sì non so se la gente mi riconosce ma io dovrei essere quella lì sono passati undici anni nel frattempo e quindi purtroppo c'ho la felpone insomma proprio affaticata dalla vita però no nasce appunto da da un ascolto in primis di noi stessi e quindi parlo per me io nasco a grosseto nel lontanissimo ormai 1985 ma mi trasferisco a firenze nel 2004 quindi ci metto un po a capire chi voglio essere io non sono mai stata una con le idee chiare non lo sono oggi figuriamoci a 19 anni vado per tentativi anche nella mia vita quindi ho aperto un po di porte sono entrata in quella che diciamo si affacciava sulla stanza arredata meglio secondo il mio punto di vista questa stanza era un locale a campo di marte che si chiama glu è un locale che fa musica dal vivo una situazione estremamente informale un'associazione culturale quindi un ambiente molto familiare mi sono sentita subito a casa lì dentro era già il 2010 quindi lì dentro ho fatto mosso i primi passi nel mondo della comunicazione sempre appunto un po senza arte né parte perché era tutto gestito tra amici volontari ognuno metteva in campo quello che pensava di saper fare o era certo di saper fare quindi conosco un sacco di realtà e scopro che ci sono tantissimi glu a firenze non intesi come locali di musica dal vivo che nel frattempo poi sono chiusi tutti anche quelli che c'erano ma inteso come realtà culturali con poca voce io venivo da fuori quindi per i primi cinque anni a firenze ho fatto le cose che secondo me facevano un po tutti gli studenti fuori zete quindi serate spiaccicata in santo spirito col birrino con il cocktail o in sant'ambrogio a seconda dei punti di vista tanto centro tanto centro un po così a baco ma mi mancava venendo da grosseto dove naturalmente c'è tantissima natura tutto molto meraviglioso ma parte culturale abbastanza lacunosa mi mancava appunto proprio capire dove fosse questo humus vivo un po sottoterra quindi parlando con un amico frequentando il glu scopro che ci sono in realtà tantissimi progetti piccoli o grandi a cui mancava la voce quindi parlo con un amico e gli dico ma sarebbe bello se a Firenze ci fosse una guida per chi magari non conosce i posti vi conoscete tutti dalle medie fate sempre tutti le stesse scuole andate tutti nei sedi di posti ma per chi non è nato qua c'è un'alternativa è pieno di alternative quindi serve una guida uno strumento di navigazione per l'offerta culturale della realtà questa persona così parlando del più o meno mi fa guarda già che sei al glu parla con samuele perché vedrai che lui ha un progetto aveva un progetto simile che è rimasto in un cassetto quindi contenta o meno a pasqua vado da samuele gli parlo di questa mia idea ignara che nello stesso periodo proprio negli stessi giorni se non ho capito male un'altra persona che è leonardo cianfanelli che peraltro è qui presente e nella foto è quello accanto a me però non so destra sinistra già non le so normali figurati dietro a specchio non so questo qui quello lì di qua a destra a sinistra a destra mia a sinistra vostra comunque leonardo cianfanelli era già stato da samuele facendogli più o meno la stessa domanda ma partendo da un punto di vista completamente diverso dal mio perché leonardo era l'unico di tutti e quattro fiorentino quindi sapeva benissimo quale fosse l'humus culturale della città sapeva benissimo dove andare la sera per sentirsi sui concerti le mostre le opere più nascoste più underground ma girando capitali europee aveva visto queste riviste fighissime gratuite di eventi che venivano distribuite ovunque quindi ne aveva parlato con un suo amico che non era il mio e ha detto ma che ne pensi se a firenze avesse la sua rivista e questo ragazzo che si chiama gabriele gli ha detto guarda bello appunto l'avevo fatto con samuele vai al club a parlare con samuele perché vedrai che lui ha sempre il progetto in in questo fantomatico cassetto noi cercavamo i fondi al momento di tirar fuori i fondi abbiamo bussato al comune di firenze il quale ci ha detto bellissimo progetto fatelo noi vi diamo il patrocinio grandissimo orgoglio avere il patrocinio del comune di firenze ma non ci paghi le fatture quindi essendo loro comunque già grandi e vaccinati insomma non se la sono sentita diciamo non erano i tempi per per osare quindi samuele con questi due input improvvisati tira fuori questo progetto dal cassetto ci mettiamo un po a studiarlo si rinfresca un po la grafica samuele è grafico quindi lui naturalmente si sarebbe occupato di tutta questa parte ci improvvisiamo perché naturalmente va bene sognare ma fino a un certo punto quindi la parte economica restava uno scoglio da da superare quindi ci improvvisiamo fundraiser cercando fondi europei immagino sappiate anche forse meglio di me che non è una cosa per cui ci si può improvvisare non è facile fare un progetto europeo ricevere i fondi insomma ci sono delle competenze specifiche quindi dopo un paio di mesi così di tentativi l'entusiasmo scema se non che arriva sempre un po dal cielo sempre un po nel momento migliore in cui potesse arrivare tommaso che è l'ultimo a destra vostra di qua che nel frattempo in quel momento stava organizzando la lavorava insomma nella promozione del concerto dei radio delle cascine e out of the blue prende il telefono e indovinate chi chiama samuele formiconi quello nel mezzo e gli chiede sempre la stessa domanda ma il tuo progetto quello che avevi nel cassetto della rivista gratuita ma per caso ce l'hai sempre perché io non voglio distribuire flyer ho un'idea diversa ho una visione diversa non voglio distribuire flyer e impestare il parco delle cascine una volta finita il concerto ma vorrei un prodotto nuovo che la gente una volta finita usufruita la funzione quel giorno lì si possa portare a casa e che dia qualcosa in più perché io sono lavoro nell'organizzazione degli eventi e credo in questo tipo di prodotti quindi ecco qui le quattro visioni a parte quella di samuele che insomma l'aveva avuta molto prima e poi essendo grafico probabilmente era uno sfizio suo di grafica quindi troviamo samuele naturalmente era un po più pronto rispetto ai nostri due interventi quindi dice certo eccolo va l'avevo già tirato fuori dal cassetto è anche bello fresco ma ci mancano le basi quindi tommaso si mette entra dentro diciamo questa clac improvvisata e ognuno si prende il suo ruolo quindi tommaso parla con l'organizzazione del concerto e coordina le informazioni e soprattutto la parte economica che sarebbe servita a coprire precise 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 nemmeno troppo precise le spese del numero zero e basta Leonardo aveva una fittissima rete di conoscenze perché comunque faceva parte anche della sua formazione professionale quindi si mette in mano la parte redazionale e crea una redazione da zero fatta di contatti di professionisti insomma più di vari settori sempre naturalmente con un occhio puntato a eredio ed perché il giornale nasceva per quel fine lì samuele grafico e quindi si rimette al lavoro nella sua parte grafica e io resto col cerino in mano e mi becco tutta la parte che c'è dietro a questa bellissima rivista perché non si tratta di fare un giornale di stamparlo ma ci sono tutta una serie di vicessitudine burocratiche e amministrative che ci stanno dietro quindi scopro un mondo bellissimo e terribile nello stesso momento imparo le cose facendole via via perché comunque il tempo era pochissimo perché la telefonata di Tommaso era arrivata poco prima del concerto tre mesi prima quindi non avevamo alcun tipo di struttura decidiamo di di metter su un'associazione culturale perché era la forma più leggere perché non non sapevamo assolutamente come sarebbe andata mettiamo la quinta e a settembre 2012 nasce lungarno numero zero la copertina riprendeva il concerto dei radio ed era comunque la base del concerto dei radio ed osiamo per la prima volta perché noi avevamo le risorse per fare solo questo numero qua precise e ripeto neanche troppo precise però lo chiamiamo mensile perché la visione c'era mancavano i soldi che spesso vanno di pari passo quindi niente questo era il primo layout dentro quindi ovviamente parlava molto dei radio ed ma poi c'erano anche altri speciali dentro insomma la parte redazionale poi c'era la cartina delle cascine come raggiungere il concerto viene stampato in tantissime copie e viene distribuito al concerto successo incredibile quindi noi contentissimi di essere riusciti in questa impresa e poi poteva finire lì ovviamente non era nei nostri sogni che finisse lì però eravamo anche molto realistici non avevamo soldi ognuno di noi faceva aveva un lavoro a tempo pieno quindi sarebbe stata una sfida forse più grande di noi se non che arrivano i feedback passati i primi giorni alla fine del concerto che era tra l'altro a fine settembre quindi impensabile fare il numero di ottobre perché sarebbe dovuto ora so che sarebbe dovuto andare in stampa praticamente il giorno del concerto e questo prodotto piace piace agli operatori del sistema quindi in chi si occupa di concerti eventi chi vive la parte culturale della città e chi soprattutto la gestisce piace agli utenti perché comunque nel nostro piccolo vedevamo che la gente lo prendeva lo portava a giro e soprattutto se lo portava a casa piace a noi farlo tantissimo troppo però quello era abbastanza scontato e quindi timidamente qualche insomma qualche soggetto fa capire a Tommaso comunque a noi che magari a piccole dosi moderatamente si poteva anche pensare a mettere su degli investimenti mensili fissi bassissimi perché comunque era un prodotto che nessuno conosceva piaceva ma nessuno conosceva quindi non è che la gente appunto era disposta a investirci chissà che capitali quindi diciamo c'era un timido ottimismo per poter iniziare come a dire se voi lo fate io nel mio piccolo vi aiuto non pensate di poter contare su di me però io il mio lo faccio io il mio lo faccio io il mio lo faccio e quindi eravamo riusciti a prendere magari cinque o sei realtà che poco poco piano piano però comunque erano disposti a salire in barca con noi se avete un po capito che tipi siamo sarebbe bastato molto meno per farci iniziare poi a stampare lungarno davvero quindi 200 euro allora si fa tutta la vita no però bisognava decidere come farlo che si sarebbe fatto era era scontato dovevamo decidere come farlo gli unici punti fissi sono stati che sarebbe stato un mensile e che sarebbe stato gratuito queste sono due cose su cui non abbiamo mai dubitato nemmeno un secondo sul numero di copie ci si poteva ragionare magari ogni tanto però eravamo sempre quelli di prima quindi pensare di fare un prodotto cioè non avevamo tempo fondamentalmente non avevamo tempo di fare un prodotto sconosciuto e non avevamo il tempo di farlo conoscere affinché potesse darsi il tempo di arrivare in mano alle persone e non avevamo una base solida su cui potersi magari tarare e fare le cose piano piano quindi abbiamo deciso ok facciamo un mensile lo facciamo gratuito e lo facciamo in cinque mila copie ogni mese perché noi crediamo fermamente nel prodotto che stiamo facendo e siamo certi che una volta che arriva nelle mani delle persone è un prodotto che può funzionare il punto è farlo arrivare nelle mani delle persone quindi serviva una presenza capillare in città nei posti giusti selezionati rinnovati via via serviva naturalmente una parte redazionale ben benissimo strutturata con persone che sapeva sapevano assolutamente quello di cui erano chiamati a scrivere piano piano si unisce quindi scusate se no mi parte la slide fantastica decidiamo di fare lungarno nell'unico modo in cui pensiamo sia giusto fare le cose e quindi questa è una frase che è molto mia cioè molto mia per niente perché a dire leo petri ma sento molto mia perché viviamo in tempi in cui purtroppo ci viene dimostrato continuamente il contrario cioè che anche fare cose fatte male fatte veloci fatte buttate in là tanto se c'hai i soldi dietro o se capti gli umori quelli più bassi se dai una cosa facile in mano alle persone vedrai che poi la masticano funzionano anche le cose fatte male però si vive meglio con le cose fatte bene quantomeno se le devi fare te quindi decidiamo che lungarno va fatto se si fa va fatto bene e non voglio assolutamente dire che fare una rivista semestrale annuale a pagamento è fatta male però per per l'essenza di lungarno era fondamentale che venisse fatto così almeno secondo noi nasce lungarno quindi nasce la rivista vado un po avanti cambia cresce cambiano cambia la parte grafica esterna e soprattutto cambia la parte grafica interna riusciamo a diventare un marchio talmente conosciuto in città che ci possiamo permettere di togliere i titoli in copertina cioè quella parte che richiama i contenuti e quella parte che all'inizio era fondamentale per far capire una persona di cosa parlava la rivista perché la trovavi su un tavolino in piazza santo spirito sempre naturalmente anche qua anche nelle scuole anche nelle librerie anche nei caffè quindi perché lo dovevi aprire perché abbiamo iniziato a farci conoscere con aiuti con ammiccamenti con le copertine le copertine sono diventate le copertine illustrate sono diventate il marchio di fabbrica la ciriagina sulla torta il fiore all'occhiello il chiamatelo come vi pare ma insomma sicuramente lungarno non è lungarno senza una copertina illustrata quindi siamo riusciti come dicevo siamo arrivati a settembre 2017 dove abbiamo tolto anche i riferimenti degli articoli in copertina perché tanto la gente ormai il brand lo conosceva era arrivato lungarno c'era era una realtà conosciuta dalle persone veniva preso finiva nei posti ci veniva chiesto il refill ma no grazie 5 mila opi bastano fatevele bastare non c'era bisogno di fare alcun tipo di ammiccamento perché la fiducia si era stabilita e la stessa fiducia che c'era tra lungarno e il pubblico c'era tra la redazione e l'editore che non era un vero editore con la scrivania e la penna stilografica eravamo noi eravamo noi quattro con l'associazione poi nel frattempo Tommaso ha accettato altre sfide professionali nel 2015 e quindi siamo rimasti noi tre però eravamo noi eravamo noi a fare l'editore e la redazione cresceva ma restava comunque anche sempre uno zoccolo duro che faceva capire di cui qui abbiamo una piccola rappresentanza che comunque trasmetteva quel sentimento che c'era ai nuovi arrivati perché crescevano tantissimo le richieste sia di entrare a far parte della redazione che di fare copertine illustrate tutti si approcciavano all'ungarno e questa cosa mi ha sempre imbarazzato moltissimo tutti si approcciavano all'ungarno esprimendo la propria volontà di dare il contributo gratuito alla rivista nessuno ha mai chiesto di essere pagato ovviamente comunque l'ungarno appunto cresce crea relazioni anche con gli altri soggetti che sono in città e che quindi abbracciano un po' l'ungarno questo qui alle mie spalle è un esempio perché mi sembra il collettivo si chiamasse Inc Different non so se ci sono sempre comunque questa copertina è stata fatta da loro in cinque versioni diverse stampata al bisonte perché l'ungarno appunto dava proprio questo messaggio qui l'ungarno stava in piedi perché veniva fatto da 50 persone tutti i mesi più o meno tutte allo stesso livello l'editore e la redazione avevano un dialogo continuo e così con la parte commerciale nel senso l'unica cosa che è mancata davvero a l'ungarno è stata ma probabilmente quasi sicuramente per una mancanza mia nostra anche di caratteri è mancata una forza economica è mancato stringere accordi commerciali seri strutturati ma perché perché volevamo anche comunque una totale indipendenza non l'indipendenza di aggredire perché la nostra linea editoriale è sempre stata molto chiara nessuna polemica si parla di quello che c'è da parlare non si parla di cosa ci chiedono di parlare o di quello che non ci piace però non si mette neanche non siamo nemmeno nessuno per puntare il dito lasciamoci la possibilità di poterlo fare se ci va di base l'ungarno deve diffondere cultura deve far capire alla gente dove andare a scovare la nuova galleria underground il posto musicale ma ci trovi anche il maggio e il verdi nel senso è una rivista gentile però cresce talmente tanto appunto il nome in città che crescono anche le attività parallele quindi in questo caso nel 2018 a dicembre 2018 anzi i primi mesi del 2019 nasce questo che è puramente un vizio di Samuele lo possiamo dire ma è perché proprio perché lui aveva il polso della parte anche grafia e quindi sapeva quante richieste ci fossero per le copertine quindi fa questo catalogo dove ci sono tutte le copertine dal numero 0 al numero di dicembre 2018 con Marta Valentina che sono qui presenti con Leonardo grazie alla struttura dell'associazione culturale c'è stato possibile approcciarci anche al mondo degli eventi quindi abbiamo organizzato concerti mostre itinerarni eventi più o meno riusciti ovviamente però insomma il nome di Lungarno diventava sempre più forte però ecco e qui è l'unica nota un po' malinconica noi eravamo sempre gli stessi cioè nel senso noi siamo riusciti con grandissimo orgoglio mi sembra ma sto andando a braccio dal 2016 a pagare i collaboratori quindi siamo riusciti a trovare le risorse per dare un compenso ahimè simbolico nel senso che purtroppo la paga in quest'ambiente basta a prescindere poi se scrivi un articolo al mese non è che si può pensare di ricoprirti di denaro come sicuramente tutti si sarebbero meritati però riusciamo a dare un piccolo contributo riusciamo a pagare le spese delle tipografie quindi il progetto in sé sta in piedi noi no inizia a mancarci un po' di forza nelle gambe perché tutti noi facevamo altro nella vita non siamo mai riusciti a farne un lavoro a rendere lungarno un progetto per cui io avrei potuto lasciare il mio lavoro Samuele il suo Leonardo il suo e lavorare al cento per cento per questo progetto anche per mille motivi e probabilmente gli anni in cui l'abbiamo fatto erano sbagliati eravamo già grandi nessuno voi siete studenti avete tutto il tempo forse non so quanto picchia l'accademia ma insomma magari un po' di tempo c'è per fare anche altro oltre lo studio certo quando hai trent'anni un lavoro a tempo indeterminato o meno ma insomma più che altro a tempo pieno che è di 40 ore a settimana tutto questo veniva fatto nei ritagli di tempo per il redattore era una volta al mese poi sì certo per fare un articolo ti devi informare qualche giorno ci metti ma insomma una volta al mese per noi era una gestione quotidiana di tutto io avevo tutta la parte amministrativa nel frattempo cioè commerciale più che altro anche amministrativa purtroppo nel frattempo avevo messo un piede nella parte redazionale nel senso avevo il ruolo di direttore editoriale e quindi comunque i pezzi passavano dalla mia supervisione sempre affiancata da Leonardo per quanto riguarda tutta la parte degli eventi la distribuzione lui stava dietro a tutto quest'altro mondo parallelo Samuele naturalmente come abbiamo ampiamente detto si occupava della parte grafica però eravamo stanchi e non sapevamo più come poterlo farlo come poterlo farlo crescere ancora perché avevamo come si suol dire in gergo proprio finito le banane e a fare questa presentazione mi sono resa conto che per la quarta volta arriva questa telefonata dal cielo nel momento in cui doveva arrivare qual è il telefono che squilla? quello di Samuele Formiconi sempre lui perché io non mi ricordo più cosa c'è dopo questa slide perché la sto facendo niente no forse ok squilla il telefono di Samuele Formiconi e dall'altro capo del telefono ci sono quelli che oggi sono gli editori di Lungarno quindi chiama Tabloid società cooperativa che è una società di servizi di comunicazione attiva sul territorio fiorentino da tantissimi anni ci chiamano per dirci che guarda noi abbiamo una macchina bene oleata da questo punto di vista perché noi facciamo il reporter che è una rivista cartacea che viene distribuita in tantissime copie però ha poco appeal a noi ci manca la vostra freschezza e a noi ci manca tutti i vostri soldi fondamentalmente ma più che i soldi la vostra struttura quindi poter respirare tra una fattura e un'altra poter gestire insomma tutto il progetto in un modo un pochino meno ansioso per noi e con delle competenze diverse quindi si creano una forma di dialogo e nel 2021 ufficialmente Lungarno passa sotto la cura editoriale di Tabloid come è tutt'oggi io resto con un occhino puntato su Lungarno all'inizio ero coinvolta eravamo tutti coinvolti molto di più oggi un pochino meno perché poi appunto la vita si cresce non occupandomi della parte redazionale io mi sono sempre occupata della parte commerciale il lavoro ad Autolinea è una cosa è un'altra quindi insomma Lungarno resta in assoluto la cosa di cui vado credo più fiera di aver fatto perché innanzitutto perché oggi che siamo a dicembre 2023 è vivo e è dieci anni è undici anni che questo giornale viene stampato ogni fucking mese in città è stato stampato anche in periodo covid quindi in una modalità completamente diversa perché è stato stampato in un numero di copie limitatissimo quindi tipo 200 copie ai primi 200 che le richiedevano e spedito a casa ma nonostante questo siamo usciti anche in quei mesi lì abbiamo spinto molto sull'online ho provato a ricordarmi il claim ma non me lo ricordo e quindi pace e quindi ecco sono estremamente soddisfatta di quello che ho fatto non non è mia intenzione invitarvi a seguire le mie orme se aveste mai l'idea di fare una cosa del genere anche magari con cose diverse perché comunque con una struttura più solida e insomma un pochino più organizzata a monte e con un po' più tempo sicuramente la solidità avrebbe portato anche ad altri frutti Lungarno non ha mai fatto il salto che potenzialmente avrebbe potuto fare però ecco l'unico consiglio che vi do è che se avete se avete una visione un'idea se sentite un bisogno o un'esigenza e quindi quello diventa il vostro obiettivo cercate di viverlo come se voi l'aveste già ottenuto e quindi procedere con assoluta certezza di quello che state facendo con moderata cautela un pizzico di incoscienza non troppa perché comunque noi per quanto si sia fatto un progetto abbastanza importante vi posso garantire anche dal punto di vista economico l'abbiamo fatto ok sì un po' improvvisato ma anche con molto sale sulla zucca il successo è garantito se ci credete voi in primis e se e se siete consapevoli di quelle che avete tra le mani il successo è garantito che può essere anche un successo personale non deve essere per forza miliardario in questo sono molto brava a non farlo diventare un successo miliardario ma successi personali e orgoglio personale sì quello assolutamente ce la faccio siccome il pelo il lupo perde il pelo ma non il vizio per forza non mi veniva cosa c'è stato nel frattempo l'ungarno non era più mio insomma non era più nostro le giornate erano lunghe vuote noiose a questo punto perché ero abituata e non avevo più un minuto libero ero sempre tra fatture cose commerciali scrivi il direttore la redazione e è arrivato il covid quindi c'era già tabloid che si occupava della parte gestionale della rivista tempo non mancava come a me anche a Samuele e Samuele essendo un grafico nel periodo covid ha vissuto davanti a un computer per tipo tre mesi senza alzarsi ma era la persona più felice del mondo perché poteva fare tutte le prove e le stupidaggini che durante il tempo non aveva mai sì durante l'anno insomma non aveva mai modo di fare e quindi si sollazza e partecipa a un contest di tipografia e crea una font io dico una font non mi rompete io dico una font so che si dice un però si dice sono altissimi dibattiti in merito quindi lui fa questa font per un contest la chiama block type e poi mi dice e che ci si fa niente oppure ci possiamo rovinare la vita un'altra volta te che fai domani io mi rovino la vita covid casa tempo noia mi giro e quegli anni mi avevano regalato il calendario filosofico carino insomma da tenere così leggero ci mancherebbe altro e quindi ci sono queste frasi ricordati che i pensieri non corrispondono sempre ai fatti non credere a tutto ciò che pensi non lo so il grandissimo sun bliss ho detto accidenti mamma mia che meno si poi apro la porta il mondo fa schifo lo stesso anche se non credo a tutto quello che penso comunque mi sputi li piglio lo stesso giro la pagina mi sembra più o meno per quanto un sogno sia bello prima o poi ci si sveglia stang ho detto no ragazzi però no così no cioè chi mi conosce la mia vita si basa sul cinismo e sul sarcasmo cosmico e universale quindi nel senso così mi invitate troppo a nozze non ci ha posto ho troppo tempo per ascoltare la mia testa e quindi ho detto ok Samu ti hai fatto la font possiamo possiamo fare un calendario possiamo fare un calendario giornaliero però un po' simpatichino perché tanto queste frasi dubito che veramente nel momento in cui giri ok magari ti possono suscitare un'emozione senza giudicare naturalmente le emozioni ci mancherebbe anche di giudicare pure quelle e ho detto però poi allora facciamo una roba un pochino più leggera e naturalmente facciamo un calendario giornaliero quindi Samu tutta la parte grafia e Miss Cerino rimane un'altra volta un cerino e si becca fai bene ho avuto l'idea prego ora fai 365 frasi da mettere nel calendario sono tante l'assicuro che sono tantissime 365 frasi soprattutto come le stavamo intendendo noi e quindi vabbè spoiler un pochino ma frasi fatte scontate quelle frasi che non ti cambiano assolutamente niente nella giornata nella vita ma anzi sono quelle frasi tipo quanto è buona l'acqua quando siete già mentre lo dici ti rendi conto che proprio non hai avuto voglia di dire niente di meglio e dall'altra parte chi ti ascolta alza gli occhi al cielo perché avresti proprio minimo sforzo però magari un sorriso te lo strappa quindi partorisci 365 frasi ovvie ma anche spiritosine però covid il tempo non mancava e così nasce ah no perché aspetta perché siamo sempre quelli di prima uguali identici spiccicati quindi ovviamente c'è Samuele che nel frattempo mentre io mi spacco il cervello in 12 per trovare le frasi lui pensa al progetto grafico più costoso che l'essere umano possa concepire quindi una roba fichissima bellissima in stampa digitale incollato in testa con il cartone grido di 0,5 il foro e io lì a scrivere le frasi vabbè fatto sta che nasce il calendovvio 2021 perché si fa nel 2020 quindi che si fa che non si fa niente non si fa niente si stampano sei copie pagandole una cosa fuori dall'umana concezione e si regalano agli amici fine basta ciao Samu bene ci siamo già rovinati la vita scabollata proprio all'ultimo ora va bene ok se non che ah fai conto ottobre del 2021 gli amici a cui sarà regalato ci chiamano e ci dice oh ma io vi volevo prendere il calendario quello che mi avete regalato l'anno scorso lo volevo regalare per Natale dice no guarda capito male perché non si fa il calendario era così scherzino cioè non è che si fa davvero il calendario oh no scemi ma è bellissima un'idea che funziona di sicuro ma non capite niente sì vabbè si sa quindi il 2022 buco 2022 però a ottobre del 2022 richiamo gli amici e dico senti ma il regalo che volevi fare l'anno scorso perché naturalmente di qua ci sono sempre io quindi la prima persona che mi chiama e mi dice ganza l'idea ok allora va bene non vale niente di quello che ho detto fino a 5 minuti fa facciamolo buttiamoci in questa incredibile avventura e quindi nel 2023 facciamo il calendario lo stampiamo in 50 copie perché va bene essere sognatori anche lì ma poi comunque secondo voi imparo mai la lezione? no quindi all'ultimo secondo di corsa senza avere non è che chiami la distribuzione ti metti fai due o tre moine ecco ma proprio zero in questa cosa non imparerò mai quindi all'ultimo secondo anche qua ne stampiamo 50 copie io da boomer faccio il mio post su facebook dove c'ho ancora un po' di fan base e con un mio post vendiamo 40 calendari perché ovviamente la gente si fida della della visione che c'è nel mio cervello chiamiamola così quindi ne stampiamo un centinaio a quel punto richiamiamo la tipografia diciamo guarda stampane 100 l'abbiamo venduti tutti contenti perché comunque per la prima volta non ci si è rimesso nemmeno un euro abbiamo fatto i conti torna tutto felice basta siamo contenti ora basta ora ci si riposa e infatti calendò 2024 in cui abbiamo stampato ancora più copie in tre colori quindi potete scegliere la sgargiante versione classica o le più eleganti versioni Cherry MC 5 minuti di promozioni e quindi nulla ecco semplicemente per farvi capire che in realtà quando c'hai questa fiammellina dentro che tu faccia una rivista gratuita culturale che vive per 10 anni a Firenze e va in mano delle persone o che tu faccia un prodotto decisamente più leggero insomma senza pretese assolutamente di insegnare nulla a nessuno ma semplicemente di strapparti un sorriso come strappi i fogli della giornata ecco quando c'è questa fiammella qua mi dispiace dirvelo ma non c'è verso di spegnerla ecco quindi cercate di ascoltarla un pochino e basta grazie grazie a tutti ovviamente se ci sono domande eccetera eccetera sono qua moltissimo volentieri per rispondere allora il nome nasce era già così l'avevano già chiamato Lungarno Samuele e Gabriele ai tempi nella loro prima versione perché l'idea era fare una rivista che toccasse tutte le città toccate dall'Arno quindi Firenze in realtà era nato come progetto regionale quindi Firenze Pisa eccetera eccetera poi magari anche con altre espansioni e allo stesso tempo perché il fiume è vita e quindi le città nascono intorno ai fiumi e è lì che si sviluppa l'inizio di una civiltà e era lì che appunto da lì sarebbe nata poi tutta la parte legata ecco agli eventi culturali ci ha fatto giochissimo perché essendoci poi Lungarno Collection tutti su Twitter taggavano Lungarno per taggare Lungarno Collection e si uscivano noi Lungarno Firenze che era il nostro tag e quindi bombissima ovviamente senza alcun tipo di progetto dietro questa cosa allora in libreria è inoltrarno a l'ornitorinco tutte librerie indipendenti quindi inoltrarno l'ornitorinco Campo di Marte L'Ora Blu Santa Maria Novella Todomodo Sant'Ambrogio Malaparte Gavinana Piccola Farmacia Letteraria e Alice alla Fortezza dentro l'ex student hotel social lab quindi per quest'anno siamo riusciti a altrimenti basta mandarci un messaggio o alla mail o su Instagram rispondo sempre io quindi io Bazzi con zona Oberdan Beccaria ma insomma in un modo si trova se no domenica prossima siamo al mercatino a Prato al Wonderful Market che è al Teatro Garibaldi perché lo comprano eh piace eh tutti allora ciccia sì nel senso più che altro vengono rimescolate cioè cambiano allora quest'anno c'è stato un pochino più un lavoro di fino devo essere sincera quindi almeno per le feste comandate e perché l'anno scorso sfogliandolo qualcosa si è padellato perché poi alla fine gente cioè non ne puoi più e alla fine qualsiasi frase ti viene in testa tipo ok 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 è una frase fatta se ci pensi ok non vuol dire niente quindi si saranno messe un po' alla fine a caso quindi quest'anno sì diciamo che ogni anno cerchiamo di migliorarlo poi proprio rinnovarlo completamente non sarebbe possibile ora mi sa che no qui non ce l'ho messa perché era già finite ora chiamo Fabio Volo così mi faccio dare delle ottime idee no però che ne posso fare degli spoiler se me li ricordo tipo a Ferragosto e credo sarà sempre così cioè manca poco a Natale tra poco è Natale che sono quelle battutine che non fanno ridere che uno fa eh eh quindi ci sono delle cose oppure tipo il 25 aprile che un po' me la sento allora ho messo sei libero di pensarla come vuoi un po' più un po' più messa lì per chi vuole capire eh oppure appunto come ho detto prima quanto è buona l'acqua quando hai sete oppure non è il freddo ma l'umidità che ti ammazza ecco sono tutta questa serie di cose che se poi le cambi rischi di trovare roba che invece non fa ridere non piace invece queste comunque sono dei cavalli di battaglia anche i mercatini via via che la gente sfoglia vedo che ride sempre sulle stesse la risposta è una via di mezzo nel senso che ehm c'è stato un brevissimo periodo ehm quando ancora appunto lo gestivamo tutto noi in cui io avevo iniziato con sgarro a vendere la copertina nel senso a fare degli accordi commerciali che prevedevano anche un'illustrazione di copertina dedicata noi facendo illustrazioni voleva dire un'illustrazione però sono state poco perché poi ci è sempre piaciuto pochissimo imbrogliare le mani quindi l'unica cosa che abbiamo sempre chiesto era di attenersi al mese però c'è stato un ragazzo che è un ragazzo era un ragazzo un uomo Ray Orange che ha fatto la copertina di dicembre una delle prime tra l'altro con una ragazza con un surf in costume da bagno nel senso non è che è poi un albero di Natale stilizzato quindi l'unico l'unico input che veniva dato anche perché ricordiamoci che la richiesta era gratuita cioè quindi noi massima libertà perché ci manca pure ti dia quello che devi fare chiedevamo ecco un minimo di attinenza al mese è stato anche diciamo ganzo sì in qualche modo l'altra volta mi sono messa a guardare tutte le copertine e ci sono tantissime copertine con il Duomo ma tanti ogni volta che chiedevamo un riferimento a Firenze nel 99% dei casi spuntavano a Cupolina da qualche parte più grande più piccola stilizzata quindi abbiamo smesso anche poi a un certo punto di dire fai quello che vuoi non c'entra niente tanto la gente ci conosce c'è scritto quindi fai quello che vuoi magari a luglio evita di farmi una roba uno sulla stufa però anche lì se gli riesci a dare il tuo guizzo e me la spieghi va benissimo ovviamente stoppiamo sul nascere materiale potenzialmente offensivo per qualsiasi genere di essere umano subumano e quindi limiti più etici che non grafici per candidarsi per una copertina non lo so più no non è vero a Samuele direttamente ma Samuele non risponde non è carino dire alla gente di scrivere a Samuele va bene la mail è Samuele non è vero poi risponde bisogna avere un po' di tempo magari chiederlo due volte Samuele chiocciola lungarnofirenze punto it Samuele chiocciola lungarnofirenze punto it oppure bianca chiocciola tabloidcoop punto it con due o non penso che nessuno se lo stia scrivendo ma insomma in qualche modo poi grande grande bianca chiocciola tabloidcoop oppure mandi un messaggio su instagram risponde valentina è qui che è quella che gestisce instagram e quindi ti rispondere e ti ridà l'indirizzo email fondamentalmente che ti ho dato io lungarno si è rimasto in piedi tutti questi anni è fondamentalmente per questo tipo di rapporto qua cioè che si è creata una totale fiducia tra redazione collaborazioni e editore e quindi la voglia di fare le cose bene la voglia di di essere orgogliosi del proprio lavoro la voglia di stare insieme è stato in assoluto il motore che ha lasciato lungarno in piedi per oltre dieci anni che si è